Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Wootering Waves e oggi facciamo un video un po' più generico. Se la volta scorsa abbiamo parlato di Calciaro o comunque di Sephiroth come mio personaggio preferito e ho diciamo azzardato una piccola versione di guida introduttiva al personaggio che ringrazio inoltre tutti coloro che mi hanno mandato dei feedback anche riguardo al video quindi ho un modo adesso di avere delle idee più chiare sul come realizzare ovviamente altri video e sicuramente arriverà una versione 2.0 per quanto riguarda lo stesso video di Calciaro quindi avrò un modo di sistemare un paio di cosine essere leggermente più sintetico e poi aggiungere tutto ciò che mi è stato detto e mi è stato consigliato ovviamente dai commenti quindi fatta questa premessa ci tengo a parlarvi della terminologia di base sapete benissimo che io quando tratto i titoli fondamentalmente online cerco sempre di imparare il vocabolario in modo tale da non creare fraintendimenti quando si va a spiegare più nel dettaglio o un personaggio o una skill nel diciamo nel determinato momento oppure una rotazione o quello che possa essere un consiglio sul come utilizzare un personaggio al meglio quindi è giusto a mio avviso fornirvi gli strumenti per poter leggere in modo chiaro e corretto tutti i termini presenti all'interno di footering waves o almeno quelli più importanti dal punto di vista del gameplay tutti gli altri poi ovviamente saranno termini già conosciuti da altri giochi di tipo o comunque di genere simile o fondamentalmente terminologie che per chi gioca il genere appunto rpg o comunque mmo in generale dovrebbe già conoscere quindi cominciamo con appunto la terminologia più importante di ogni personaggio infatti ogni personaggio avrà determinate abilità avrà determinate energie avrà determinate statistiche che dobbiamo imparare a leggere e dobbiamo imparare soprattutto a tradurre per evitare diciamo fraintendimenti e problemi in generale partiamo ovviamente dai classici hp che dovremmo ovviamente conoscere tutti ovvero gli health point dove praticamente viene indicata la nostra barra della salute l'attacco che ci permette di visualizzare a schermo il numero per intero della nostra porzione di attacco la difesa che fa la stessa cosa mettendo in evidenza appunto il nostro status della difesa e poi abbiamo già la prima terminologia che non tutti potrebbero effettivamente conoscere ovvero l'energy regen che cos'è l'energy regen l'energy regen è la possibilità di poter caricare energia durante il combattimento o durante l'utilizzo di alcune abilità nello specifico che ci consentiranno di caricare la nostra resonation liberation che cos'è la nostra resonation liberation tradotto fondamentalmente è la nostra ultimate quindi la nostra ulti ovvero la skill più potente in teoria che il nostro personaggio effettua dopo aver caricato energia quindi l'energy regen influenza la capacità e soprattutto la velocità con la quale noi caricheremo la nostra ultimate mentre invece crit rate e crit damage sono due termini che sentirete spesso utilizzare un accanto all'altro dato che il crit rate sarebbe il rateo critico quindi la possibilità di poter effettuare un colpo critico durante le vostre combo o durante i vostri singoli attacchi e il crit damage invece è la possibilità di poter effettuare danno critico quindi un danno più evidente rispetto al normale grazie a quel colpo critico che voi farete con il crit rate aumentato quindi sono due terminologie che viaggiano praticamente di pari passo per quanto riguarda le armi ovviamente abbiamo la stessa identica cosa perché le armi indicheranno principalmente l'attacco che verrà fornito come bonus al vostro personaggio e poi una statistica secondaria che invece può essere diversa e può in un qualche modo condizionare poi successivamente la build o comunque la costruzione del vostro personaggio andiamo avanti invece dove qui parliamo degli eco ma per quanto riguarda gli eco preferirei fare un video a parte vi dico in questo video soltanto che gli eco tradotti in un linguaggio diciamo più generale sono gli artefatti ovvero tutti quegli oggetti barra accessori in questo caso creature che possono essere equipaggiate dal nostro personaggio e che ci consentiranno successivamente di migliorarne le statistiche i danni e diversi bonus che possiamo ottenere anche mettendoli insieme in un determinato ordine quindi per il momento direi di fermarci qui successivamente entriamo nel vivo della nostra discussione perché qui è dove casca l'asino qui è dove andiamo a leggere determinate parole e andiamo a leggere determinate frasi che potrebbero portare in confusione ma ovviamente qui dobbiamo fare una piccola dobbiamo fare una piccola premessa dicendo che tutti i termini e tutte le cose che verranno dette in questo video avranno delle comparazioni ma che in futuro o comunque man mano che avremo preso di mistichezza con le parole non faremo più quindi al momento serve soltanto per farvi capire quello che effettivamente si va a dire è quello che sto effettivamente dicendo partendo dal basic attack il basic attack come ovviamente dice la parola stessa è il nostro attacco di base quindi quello che noi effettuiamo premendo il tasto quadrato o il tasto x se giocate con i pad playstation xbox o tasto sinistro se state giocando con la versione pc è l'attacco classico quindi l'attacco di base proprio letteralmente attacco di base che solitamente viene influenzato dall'elemento che rappresenta il vostro personaggio in questo caso come potete vedere abbiamo calciaro che effettivamente è un personaggio di tipo elettrico e quindi di conseguenza effettueremo danni di tipo elettrico man mano che attaccheremo i nostri nemici per quanto riguarda invece heavy attack e mid air attack fanno parte sempre della tipologia di attacchi base però dobbiamo in un qualche modo dividerli perché l'heavy attack e il mid air attack possono essere influenzati da percentuali o statistiche che vengono rappresentate a parte che cosa vuol dire questo vuol dire che il nostro basic attack viene considerato come attacco base e basta mentre l'heavy attack e il mid air attack ovvero il plunging quindi l'attacco che noi facciamo in salto o in volo può essere identificato con categoria di heavy attack o basic attack mi spiego meglio è come se noi avessimo due strade a sinistra abbiamo l'attacco base a destra abbiamo l'attacco pesante e poi il mid air che invece può essere considerato o da una parte o dall'altra quindi fate molta attenzione quando leggete i kit dei vostri personaggi perché questi attacchi potrebbero differire tra loro ovviamente basic e heavy attack sono diversi per l'appunto l'uno dall'altro anche se vengono inseriti entrambi qui sotto la voce del basic attack vedrete che tramite le statistiche degli eco vi farò magari qualche esempio potreste trovare delle percentuali che vi permetteranno di potenziare o gli attacchi base o addirittura agli attacchi pesanti come si effettuano gli attacchi pesanti questa è una cosa che andremo a vedere tra poco quindi non vi preoccupate il mid air attack invece è un attacco che praticamente ci consente di effettuare un attacco appunto in salto o comunque dall'alto quindi nel momento in cui noi ci troviamo a saltare o ci troviamo in una posizione sopraelevata basta premere il tasto dell'attacco base per poter scendere in modo perpendicolare sul nostro avversario ed effettuare un mid air attack il dodge counter invece che cos'è il dodge counter è praticamente l'attacco che noi effettuiamo subito dopo una schivata infatti all'interno del gioco avremo terminologie come dodge e parry che saranno molto importanti da imparare e soprattutto da fare all'interno del gioco perché soprattutto e spero in contenuti end game possano in un qualche modo salvarvi la pelle il dodge counter in questo caso è per l'appunto l'attacco che noi effettuiamo appena dopo esserci appena dopo aver schivato fondamentalmente l'attacco di un avversario quindi schiviamo l'attacco vediamo l'animazione di schiva e poi successivamente premiamo quadrato o comunque x o tasto sinistro per attaccare immediatamente e fare un attacco diverso dal normale questo attacco dodge può essere considerato heavy o basic questo ovviamente bisogna bisogna poi evidenziarlo o comunque verrà evidenziato successivamente nel vostro kit resonance skill resonance skill è quello che viene effettuato tramite il tasto triangolo se giocate su playstation y se giocate con il pad xbox o comunque microsoft e poi è così non creiamo confusione e non creiamo problemi quindi è la skill che voi effettuerete con il tasto triangolo da playstation y da xbox ed è da pc ed è un attacco speciale fondamentalmente questo è un attacco speciale che solitamente presenterà un cooldown quindi dovrete aspettare per poterlo effettuare nuovamente e questo attacco solitamente vi consentirà di incrementare la vostra barra risonanza la vostra barra risonanza che non deve essere confusa con la resonance liberation infatti i nostri personaggi avranno fondamentalmente tre tipi di energie la concerto energy la resonance energy e la resonance liberation che poi fondamentalmente la resonance liberation non è neanche un'energia cioè non è neanche diciamo una sì fondamentalmente non è neanche un'energia ma è semplicemente un accumulo che poi viene diciamo viene viene utilizzato tutto in una volta per quanto riguarda invece la resonance skill vi servirà per incrementare la vostra barra risonanza la barra risonanza anche sicuramente vi avrò messo a schermo è quella barra che vedete sopra gli hp ogni personaggio ha una barra risonanza diversa a una condizione diversa per poterla riempire e una volta riempita questa barra risonanza premendo o tenendo premuto il tasto che vedrete in evidenza proprio a fianco che vi suggerisce appunto il tasto da premere in diciamo in conseguenza vi consentirà di effettuare le vi attac di cui parlavamo poco fa quindi quando voi dovete parlare di basic attac e vi attac ricordatevi bene di distinguere i due basic attac è l'attacco base le vi attac è quello che effettuerete una volta ricaricata la vostra barra risonanza in questo caso abbiamo sempre dei danni elettrici abbiamo tre attacchi che possiamo effettuare con il nostro personaggio appunto come attacchi risonanti o comunque come resonance skill in generale e che poi ci consentiranno di riempire la nostra barra il forte circuit forte circuit è probabilmente insieme alla resonance liberation il punto focale il punto centrale di ogni nostro personaggio il forte circuit è solitamente o una determinata abilità che si sblocca con determinate condizioni o può semplicemente essere una passiva in questo caso il nostro forte circuit con il personaggio di calciaro viene condizionato dall'heavy attack quindi quando parliamo appunto di forte circuit stiamo a parlando automaticamente di heavy attack ok quindi cerchiamo appunto di identificare cosa stiamo andando a vedere e cosa stiamo andando a provare fondamentalmente ma in linea di massima il forte circuit è ciò che noi riusciamo a sbloccare o comunque ciò che noi riusciamo a potenziare una volta riempita la barra della resonance perché è vero che noi effettuiamo un heavy attack in conseguenza ma fare quell'heavy attack ci potrebbe consentire di ottenere un potenziamento random ci potrebbe permettere diciamo di entrare in una stance diversa ci potrebbe permettere di incrementare dei danni ci potrebbe permettere di magari avere una sorta di scudo potrebbe permetterci di curarci quindi avremo ognuno cioè ogni personaggio avrà comunque una peculiarità diversa e questa peculiarità diversa viene chiamata forte circuit quindi circuito forte fondamentalmente perché qui abbiamo appunto termini musicali no quindi il forte fortissimo lento lentissimo quindi chi sa o comunque chi studia la musica sa benissimo di che cosa stiamo parlando in questo caso per calciaro il forte circuit è la trasformazione per l'appunto del suo heavy attack quindi se noi solitamente abbiamo un heavy attack che possiamo sfruttare sempre vi ricordo tenendo premuto il tasto o quadrato o x o tasto sinistro del mouse che ci consente appunto di effettuare questo heavy attack nel momento in cui liberiamo il nostro forte circuit andremo a modificare o comunque andremo a cambiare qualcosa all'interno del nostro personaggio quindi ricordatevi che il forte circuit è fondamentalmente la base o comunque il punto focale dei vostri personaggi e non a caso all'interno di questa schermata è inserito al centro proprio per farvi vedere come ogni personaggio modifica il proprio set o comunque modifica il proprio essere in base anche al forte circuit resonance liberation ne abbiamo parlato poco fa la resonance liberation è la nostra ultimate ovvero la skill che viene influenzata dall'energy regen e che ci consente in un modo o nell'altro di sprigionare l'attacco più forte del personaggio ci tengo anche a dire in questa occasione che il che il concerto energy e la resonance energy non sono influenzate dall'energy regen quindi fate attenzione quando cercate comunque di magari upare o buildare un personaggio in energy regen l'energy regen vi servirà solo ed esclusivamente per velocizzare la ricarica della resonance liberation quelle invece saranno delle cifre fisse più o meno dove appunto la concerto energy è di 100 per tutti i personaggi mentre invece la resonance energy è praticamente sarà variabile in base al vostro personaggio la resonance liberation come detto in precedenza è per l'appunto la ulti quindi attacco più forte che può effettuare il nostro personaggio è che poi avrà delle sue caratteristiche delle sue specifiche che ovviamente dovrete leggere in concomitanza con il kit o in generale con il vostro personaggio intro skill invece molto semplicemente è ciò che il nostro personaggio effettua come danno nel momento in cui entra in campo infatti i nostri personaggi all'interno di woodring waves avranno la possibilità di entrare uscire dal campo un po come altri giochi di questo genere solo che nel momento in cui i nostri personaggi entreranno o usciranno dal campo permetteranno di effettuare una intro ed una altro skill quindi una skill di ingresso e una skill di uscita come si fa ad effettuare questa skill di entrata e di uscita solitamente si fa sempre quindi nel momento in cui voi cambiate i personaggi avrete sempre la possibilità di effettuare questa intro e auto skill però come stavamo dicendo prima quando caricheremo la nostra concerto energy avremo la possibilità di poter switchare con un altro personaggio ed effettuare un attacco più forte in terminologia povera potremmo effettuare un attacco potenziato fondamentalmente quindi fate molta attenzione quando la vostra concerto energy si riempie in modo tale da poter switchare in modo più vantaggioso i vostri personaggi switchare i personaggi in realtà ha dei vantaggi fondamentalmente anche se io non lo faccio spesso perché mi faccio prendere molto dal gameplay ma in teoria switchare personaggi da vantaggi perché perché ovviamente ogni personaggio può acquisire passive o comunque donare passive quando viene switchato anche in base a come viene buildato se io vi faccio vedere l'esempio di yang sing per esempio io l'ho buildata con un set dove nel momento in cui utilizziamo la sua otro skill mi consente di incrementare l'attacco del next resonator quindi nel momento in cui switcho faccio entrare yang sing la faccio combattere un po ricarico la concerto energy esco e faccio entrare di nuovo calciaro mi consente a calciaro di incrementare il suo attacco quindi riesco in un modo o nell'altro a diventare più forte quindi anche switchare i personaggi può avere una sua importanza ed è per questo che ovviamente intro otro skill sono importanti da ricordarsi e da menzionare come terminologie importanti di gioco successivamente vi ho parlato anche di concerto energy che come potete vedere è quella quella sorta di cerchietto che ora sicuramente vi avrò messo in evidenza quella sorta di cerchietto con il simbolo del vostro elemento accanto alla barra hp ogni vostro personaggio possiede quella concerto energy e come potete notare è una concerto energy che sarà fissa per tutti e vale 100 questa concerto energy si ricarica man mano che il nostro personaggio combatte ma anche i personaggi fuori campo quindi personaggi che si trovano off field detto in terminologia propria caricheranno piano piano loro concerto energy quando la loro concerto energy sarà carica li vedrete pulsare come appunto una sorta di musica ora sicuramente vi avrò messo comunque delle immagini di repertorio probabilmente per farvi notare questa differenza e quando noterete i personaggi pulsare in questo modo è il momento migliore per farli entrare in campo infatti facendoli entrare in campo in quell'esatto momento effettueranno la loro intro skill che ovviamente sarà potenziata perché appunto avrà la possibilità di sprecare tutto il concerto energy e poi permettervi di giocare il personaggio mentre invece come potete notare la resonance energy cambia in base ai nostri personaggi ora qui per esempio calciaro possiede tre stack in questo caso di resonance energy mentre invece il nostro protagonista con l'elemento havoc che si sblocca alla fine della storia principale spoiler mi dispiace ma purtroppo ci stava praticamente avrà un'altra barra resonance che verrà caricata in un determinato modo e come vedete anche yang singh avrà praticamente la sua barra resonance che verrà ricaricata nel suo modo specifico e poi quelle che vedete tra parentesi praticamente accanto a quella barra è il tasto che dovrete andare a premere o tenere premuto per effettuare la vostra il vostro evi attack e scaricare fondamentalmente questa barra non ci sono altri termini al di fuori del perry e del dodge che ovviamente hanno un significato importante durante la battaglia il dodge è ovviamente la schivata quindi la capacità di poter schivare contempismo l'attacco dell'avversario e il perry invece è interrompere l'offensiva avversaria quando se ne ha l'opportunità con il mini gioco che vedete appunto all'interno del diciamo del sistema di gameplay quando vedrete il cerchio giallo restringersi e quindi riuscire ad interrompere l'azione avversaria sono entrambi funzioni importanti non solo perché vi impediscono di subire danni ma anche perché vi consentiranno di ridurre la fognes quindi la resistenza del vostro avversario che cos'è la fognes che ovviamente vi avrò fatto vedere comunque le immagini nel mentre io già sto pensando a come editare effettivamente il video è una sorta di barra resistenza la barra resistenza ma come ce le hanno tanti giochi al di fuori di Wootering Waves vi consentirà di poter breccare il nemico e poi successivamente aprirvi una finestra di danno o comunque aprirvi una finestra in cui il boss rimarrà inerme mentre ricaricherà questa barra per sfruttare al meglio le vostre rotazioni o per riuscire a fare il maggior numero di danni possibile quindi detto questo non credo che ci sia altro che voi dobbiate imparare o che dobbiate sapere per le basi di Wootering Waves tutto il resto è esperienza e anche magari cercare di leggere con attenzione o cercare di interessarsi più del dovuto io possibilmente cercherò di aiutarvi nel mio modo nel nel modo in cui riesco ad aiutarvi io cercando di semplificare le azioni o comunque cercando di semplificare queste lezioni un po per tutto o per tutti fondamentalmente anche se non mi va di chiamare lezioni ma sono semplicemente dei consigli che voglio dare ai giocatori proprio perché il gioco mi sta piacendo tanto e voglio che chi non abbia capito bene o comunque non abbia capito le basi del gioco e magari abbia quittato vedendo questo video possa magari ripensarci e ritornare a giocare anche per farmi compagnia perché vi ricordo che io solitamente tutte le live sono su twitch alle ore 21 quindi di conseguenza venitemi a trovare chiacchieriamo giochiamo insieme e ovviamente farmiamo perché qui la coop per farmare è assolutamente incredibile detto ciò io vi ricordo sempre di lasciare like o un commento per aiutarmi a migliorare se c'è qualcosa che non avete capito se c'è qualcosa che volete più nello specifico fatemelo sapere nella sezione commenti e mettete un pollicino per aiutare il canale a crescere detto ciò io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo possibilmente alla prossima bye bye